Tutti, ovviamente, tutti voi dovete sapere dove è finito il carissimo Il Topo Giorgio Di Del fandom WGF ovviamente Io sono andato sul Iscriviti Solo l'8% di voi è iscritto veramente Guarda i video, iscrivetevi Come vedete questo è il suo canale YouTube 300.000 iscritti Con manco un video Questa cosa non si fa Allora voi andate qui, visualizzate il coso L'email commerciale Questa parte la censurerò perché Non si può vedere E pam, io ho incollato su Google L'email In una cosa che mi trova, il luogo in cui è stata creata l'email E mi è uscito questo qui Questo è un consorzio di una macchina Che c'è scritta qui Non so che macchina è Fatemi vedere lo stemma Ah, ho capito Ma questi qui Questo qua Questo qui E questo qua Mi sembrano dei condomini Quindi io avendo in coppia e in colla Le mail commerciali Giorgio Su Google Che Guardate Control V Ovviamente censurerò le mail commerciale Mi è perso Uno Il come configurare le mail Due Ciao sono Giorgio Tre Questo indirizzo Che potrebbe essere falso Questo è falso Però Come terzo risultato appare questo Che censurerò ovviamente La strada Perché così solo i siciliani possono capire dove si trova sto coso E basta Questo video pubblicherò insieme agli altri Si vedrà Udo censurare anche qui Nessuno che come vedete non si può fare Perché non c'ha le mail commerciale Ma Vediamo se Questo qui ha le mail commerciale Manco lui ce l'ha Come Ha le mail commerciale Le 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 Alle mail commerciale Adesso vi faccio vedere il luogo Tagliando tutto Questa parte qua L'accensurerò Perché C'ha le mail di Strecatto Ma perché ci sono delle scritte in russo Nel facebook Nell'industria di strecatto vorrei sapere strecatto non è uscito niente proviamo con Alex Nauz no non si può perché ho raggiunto il massimo oggi vabbè proverò un altro giorno ma buon passata una settimana sono appena rientrato adesso prendiamo l'email commerciale e di Alex Nauz non c'è niente a parte che di lui sappiamo il suo vero nome che è il Tobi, cico il Tobi vediamo se ha un email commerciale vediamo se ha un email commerciale comunque farò un video anche sulle cose allora ragazzi ho provato con tutti anche con Lion però di Lion mi dice solo capitale si capitale dello stato romano mi dice solo sassari per Anna non c'è bisogno perché no perché capitano insieme sti due comunque qualche tempo fa quando Piadina faceva ancora i video con loro tanto tempo fa qui c'era l'account di Sanic e di Piadina comunque vi saluto e ciao a tutti i video